ok lovini benvenuti questa è un'altra pillola di fisica fantastica questa volta parliamo di effetto fotoelettrico questa lezione me l'avete chiesta in 45.000 a proposito 40.000 già raggiunti mi raccomando che cos'è l'effetto fotoelettrico entriamo subito andiamo alla sostanza come dice l'amica mia entriamo nella nostra lezione l'effetto fotoelettrico se guardate un attimo questo disegnetto sulla lavagnata è la produzione di elettroni su metallo da un metallo che viene colpito con radiazione onda elettromagnetica con luce insomma per capirci praticamente io ho questo metallo io sparo su questo metallo della luce ok vedete queste luce sparo su questo metallo della luce e questa luce questa radiazione questa radiazione luminosa questa onda elettromagnetica colpisce il metallo e mi fa fuoriuscire fuori degli elettroni l'esperimento sull'effetto fotoelettrico era stato già fatto questi questo tipo di esperimenti utilizzando un catodo un anodo utilizzando radiazione che colpiva in questo caso della fuoriuscita gli elettroni già alla fine dell'ottocento da due scienziati hertz e lehnard però il problema è che nei loro esperimenti c'era qualcosa che non tornava allora guardiamo subito cosa non tornava perché loro non riuscivano a spiegarlo con la fisica classica considerate che in quegli anni si usciva fuori dalle onde di maxwell le onde elettromagnetiche quindi ormai la concezione il concetto nella testa degli scienziati che la luce fosse un'onda era dato per appurato non c'erano più dubbi allora che succede quando fanno questo esperimento cosa osservano loro durante l'esperimento osservano queste cose guardate qui ho fatto due disegnetti un metallo colpito con luce rossa e un metallo colpito con luce viola intanto vedete subito una distinzione molto importante tra la luce rossa e la luce viola voi lo sapete qual è è la lunghezza d'onda ma è anche la frequenza la luce viola ha una frequenza maggiore rispetto alla luce rossa ecco perché il disegno è fatto così ecco perché le ondine sono più vicine fra loro tutte e due colpiscono il metallo dedichiamoci al primo esperimento quello con la luce rossa che cosa notano loro produci spari luce rossa sul metallo di una certa intensità non succede niente aumenti l'intensità aumenti l'intensità continua non succedere niente punto e basta stop fine dell'esperimento con la luce rossa andiamo alla luce viola sparano luce viola si liberano elettroni quindi vengono liberati degli elettroni ok sparano più luce viola di più di più facciamo facciamo di più devo prendere penna l'entrata spariamo più luce viola cioè aumentiamo l'intensità che cosa succede vengono fuori più elettroni quindi facciamo più elettroni un altro puntino un altro puntino un altro puntino un altro puntino cioè praticamente loro dicono secondo quella che era la spiegazione della fisica a maggiore intensità comunque dovevano venire fuori gli elettroni perché guardate questo primo caso loro dicono va bene d'accordo una bassa intensità di luce rossa non mi fa venire fuori elettroni ma se io aumento l'intensità la luce comunque un'onda se io aumento l'intensità sto aumentando l'energia di quell'onda quindi bene o male quest'onda attraverserà gli atomi che costituiscono questo metal che formano questo metal insomma prima o poi arriveremo a una certa intensità che libera fuori degli elettroni niente con la luce rossa niente andiamo a quest'altro esperimento la luce viola bastava anche un minimo di intensità di luce viola già per liberare elettroni addirittura notano che aumentando l'intensità aumenta il numero di elettroni che vengono fuori praticamente la conclusione alla quale arrivano e non si trovano è che l'energia degli elettroni non è legata all'intensità ma è legata alla frequenza quindi al colore della luce che è una cosa strana quindi diciamo voi immaginate l'energia è quella diciamo quel minimo quel pacchetto minimo che tu devi dare all'elettrone per fare per uscire fuori quel quel salto che gli devi far fare per eccitare l'elettrone e farlo scappare via loro notano che questo salto non viene provocato da quanta luce mandi ma dal tipo di luce cioè dalla sua frequenza cioè dal suo colore allora entra in gioco il grande Einstein nel 1905 pensate che Einstein nel 1905 non scrive uno scrive quattro articoli e il grande anno di Einstein ragazzi un dislessico almeno questo si dice di Einstein un asociale un genio uno che faceva le linguacce quando va a fare le foto ma persona pazzesca pazzesca Einstein che non andava d'accordo con nessun insegnante con nessun presidente una cosa pazzesca nel 1905 lui scrive quattro articoli uno di questi articoli è proprio sull'effetto fotoelettrico e sarà quell'articolo che gli farà vincere poi un Nobel ma come risolve l'arcano dell'effetto fotoelettrico Einstein? Einstein ripensa la luce completamente dice vuoi sentire a Bari si dice vuoi sentire vuoi sentire la luce non è un'onda o meglio pensiamo la luce come fatta da tanti corpuscoli che Einstein chiamava quanti luminosi corpuscoli fotoni fatti da tante palline la luce è fatta da tante palline guarda le palline devi dire palline viola le palline fatta da palline queste palline sono proprio sferette che colpiscono gli elettroni quindi non è un'onda che colpisce l'elettrone ma è proprio una sfera che colpisce un'altra sfera ora per farti capire se tu hai una sfera e pensa al biliardo se tu hai una pallina piccolina e c'è una sorta di palla da biliardo sopra il coso lanci questa pallina piccolina la palla grossa non si sposta se tu invece lanci una palla grossa ha voglia che la palla si sposta se tu lasci tante palle e hai tante palle ferme tante palle si muoveranno scusa questa spiegazione un po' strano però alla fine è così Einstein dice se io immagino la luce fatta da tante palline da tanti corpuscoli allora vuol dire che l'elettrone non viene tirato via da un'onda non viene attraversato da un'onda semplicemente riceve un calcio un kick da un'altra pallina che sono i fotoni allora se quindi un fotone un fotone colpisce un elettrone lo tira via se quel fotone ha abbastanza energia allora riesce a tirare fuori l'elettrone e lo sbatte fuori se invece non ce l'ha quell'energia sufficiente a voglia tu ne puoi mandare quando ne vuoi vedi l'intensità che aumenta a voglia di aumentare l'intensità non succederà un cavolo di niente quindi tu sostituisci queste palline con quelle rosse quelle rosse la famosa luce rossa tu ha voglia a mandare palle rosse qua non si muovono gli elettroni perché la energia associata a una singola palla rossa cioè un singolo fotone non è sufficiente da che cosa dipendeva quell'energia l'energia del singolo fotone è uguale ad h per mi dove h è la costante di planck e mi è la frequenza ecco il colore della luce la frequenza ti ricordi nel viola è maggiore quindi la frequenza del viola moltiplicata per la costante di planck dava ai fotoni viola un'energia sufficiente da dare il kick all'elettrone per uscire via ed ecco spiegata l'energia che fa volare via l'elettrone che dipende dalla frequenza come spiega il fenomeno dell'intensità te l'ho fatto capire un attimo fa se tu mandi un fotone viola farai andare via un elettrone ma se tu le mandi 4 di fotoni viola farai andare scatterare via 4 elettroni ma se tu mandi 4 milioni di fotoni 4 milioni quindi se aumenta l'intensità aumenta il numero di fotoni ed ecco che l'intensità semplicemente mi strappa via più più fotoni ma quello che è importante per strappare via il fotone è l'energia infatti lui questa energia la chiama energia minima o anche il lavoro di estrazione lavoro minimo di estrazione c'è un certo l'energia in joule no un certo numero di joule che mi serve per tirare fuori per dare quel kick quel calcio all'elettrone per scappare via meraviglioso e hashtag meraviglioso einstein scrivetevelo dove volete in testa dove vi pare sono molto molto felice ci vediamo la prossima volta ciao alla prossima pillola ciao 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 ciao